Salve a tutti, per le guide sul software libero in questo tutorial vado a spiegare OpenBoard OpenBoard installato o portabile come si troverà su EasyDida2 avrà questo simbolo e una volta installato avrà questo aspetto allora noi raccontiamo OpenBoard sono Francesco Fusillo questa è la versione 1.3.6 del novembre 2017 declinandolo in questi vari argomenti OpenBoard è un programma eccezionale perché è open source per tutti i sistemi operativi quindi lo posso installare su tutti i sistemi Windows, Linux e Mac e quindi è assolutamente inclusivo e può portare le sue attività su tutti i computer ecco che la sua configurazione tecnologica permette questo tipo di scuola una scuola dove c'è un dialogo didattico dove ognuno può lavorare sul proprio computer e evitare che sia ancora una scuola solo trasmissiva di chi fa alla lavagna e chi scrive in modo passivo senza indipendenza, intraprendenza intellettuale questo è il valore di OpenBoard è un valore che supera tutti i problemi di funzionamento e ce ne sono li racconterò per evitare di raccontare cose trionfalistiche è un programma ancora in via di sviluppo e rincorre le evoluzioni del mondo Windows, Mac e Linux però offre moltissime funzioni la più grande però opportunità che offre OpenBoard è questa la collaborazione, la cooperazione didattica andiamo a conoscere OpenBoard allora prima di partire noi dobbiamo gestire le preferenze far partire la macchina in buona sostanza ovvero stabilire com'è la nostra pagina dal menu in alto là dove c'è l'ingranaggio cliccando scegliamo il formato di pagina se abbiamo un computer 16 noni o 4 terzi e alla voce preferenze che è questa qui sempre cliccando qui esce questa tendina stabiliamo se utilizzare la palette strumenti verticale orizzontale come sarà la pena cioè le dimensioni di questi del tratto della pena del tratto della gomma dei colori della palette fatto questo noi possiamo partire e creare il nostro documento prima di creare il documento dobbiamo capire e gestire lo sfondo noi se noi vogliamo una lavagna nera a quadretti o bianca come l'ho scelta io o bianca a quadretti come questa qui questa è la funzione sfondi cliccate qua e scegliete che sfondo volete vedete adesso io scelgo nero e mi viene tutto nero il documento sarà fatto con il colore che avete scelto adesso io torno al bianco ole e sappiate che potete mettere nello sfondo di pagina anche immagini o pagine pdf lo vedremo più avanti ma questo è per dire come è la nostra lavagna allora adesso ragioniamo invece su come genera i file questo sistema questo programma perché è veramente diverso da come siamo abituati a lavorare di solito noi lavoriamo e andiamo sull'ambiente file salva e salviamo il documento bene open board salva in automatico cioè ogni volta che si apre un documento la data l'ora e il giorno diventano il nome del documento però noi con doppio clic sulla questa data possiamo dare il nome al documento e quindi adesso vi faccio vedere questa è la cartella documenti di questo computer qui ci sono tanti documenti senza titolo perché ho aperto il computer e poi non l'ho salvato che casomai dovrò buttare via perché non mi serve con la funzione cestino elimina però se uno di questi documenti volesse utilizzarlo doppio clic lo chiamo prova 2 perché c'è già una prova 1 credo ecco che è diventato prova 2 doppio clic sulla pagina bianca e io adesso posso lavorare adesso scriverò col dito su questo computer touch prova 2 e io vedrò che nella cartella documenti c'è prova 2 con prova 2 siccome qui ci dovrebbe essere ecco qua prove di lavoro è una cartella che avevo fatto prendo il documento prova 2 e lo trascino in prova di lavoro eccolo qui c'è la prova 1 e la prova 2 come ho fatto a fare questa cartella? bene tutte le cartelle dei documenti sono costruite posso costruirmele io vedete nuova cartella clic eccola qua nuova cartella e posso chiamarle che ne so lettere se voglio raccogliere i documenti di lettere o geografia come in questo caso dove ci sono delle attività di geografia adesso spiego questa cosa perché voi vedete tante copie dello stesso documento allora questo è un trucco per risolvere affrontare il problema del fatto che il programma lo vedrete ogni tanto qui in basso salva in automatico questo è un documento finito sull'Italia ecco il livello è quello della scuola primaria e io non voglio che venga modificato ma venga utilizzato per lavorare come vedete i mari sono di qua e la cartina è di là praticamente il bambino deve cercare mettere le cose al suo posto per dimostrarmi che sa e che ha capito la differenza dei mari all'interno delle acque territoriali vedete il tratteggio però questo documento che lo modifica mi modificherebbe il nativo allora per questa ragione deve scegliere dove mettere le alpi la catena perché è fatta così allora per questo motivo c'è il documento copia e il documento Italia uno dei due è quello nativo e quell'altro per lavorare inoltre siccome ogni tanto quando ci sono molte diapositive Windows questo è Windows 8.1 ma ho visto anche su Windows 10 qualche volta va in crash cioè si blocca il programma come fanno spesso i programmi cosa che non succede quasi mai mai anzi non è mai successo su Linux su Sodei Linux e sul Mac non ho esperienza allora io faccio le copie quando il documento comincia a essere importante come in questo caso per fare il video tutorial vedete 2, 3, 4, 5 il documento 5 è un documento che ha un sacco di risorse al suo interno video testo immagini e così via finché lo faccio lo salvo posso anche esportare in pdf ma lo dirò dopo allora eravamo qua quindi salvataggio dei documenti rinomina ma anche duplicazione di pagina e duplicazione di documento come se per esempio io video tutorial me ne voglio fare una copia per sicurezza clicco il tasto duplica e non lo faccio perché se no ci vuole un po' visite le risorse perché lui porta via non solo il disegno delle immagini ma anche copia tutte le risorse quindi se ci sono video se ci sono schemi se ci sono immagini tutto quanto diventa un file in realtà è un zippone come un file di impresso powerpoint e quindi ci vuole un po' più sono più sono le pagine posso duplicare delle pagine per esempio guardate qua se io clicco una pagina per esempio tutte queste pagine hanno lo stesso format adesso ve lo mostro vedete che c'è l'intestazione sempre uguale è sempre la stessa pagina fatta in maniera grafica diciamo replicata tante volte e questo lavoro si fa così cartella documenti si prende una pagina tipo questa che è vuota ve ne vedete che ha la sua intestazione e la duplico quante volte voglio come duplica vedete clicco duplica e lui mi ha duplicato il documento perché era evidenziato e per cui adesso dobbiamo aspettare questa è la sorpresa della diretta io dovevo deselezionare vedete ho fatto 5 copie a questo punto io lo chiamo 6 visto che ho fatto dei cambiamenti nella pagina che riguarda i bacchi di di open board allora deseleziono quello lì e mi seleziono una pagina e gli dico duplica adesso ho duplicato la pagina vedete la posso duplicare ancora quante volte voglio però posso anche selezionare col ctrl seleziono due pagine e dico cestino vuol dire che io non elimito il documento ma due pagine di questo video tutorial 6 che era il 5 prima bene sono ritornato al punto di partenza adesso abbiamo visto un pochino tutte le gestioni di questi documenti queste cartelle e poi ovviamente per buttarli via qui c'è il cestino si trascinano dentro come si farebbe con qualsiasi altro beh qui in fondo c'è la possibilità di vedere questi documenti un po' grandi un po' piccoli per gli orbi come me ci vuole una certa dimensione bene adesso andiamo a raccontare un pochino prima di duplicare questi documenti cosa ci mette a disposizione il programma allora il programma ci mette a disposizione come avete visto alcuni ambienti vari ambienti questo è l'ambiente di lavoro l'ambiente dove io scrivo metto dentro cose e materiali adesso cancello perché questa mi serve per un'altra cosa e questo ambiente io posso gestire lo stilo vedete gli strumenti i colori le linee gli sfondi posso tornare indietro se sbaglio aggiungere una pagina navigare nelle pagine avanti e indietro cancellare qualcosa e adesso veniamo a questa parte molto interessante allora questa è lavagna ed è selezionata questo è l'ambiente documenti vedete passo dalla lavagna ai documenti facilissimamente e questo è l'ambiente desktop che significa che open board resta davanti al desktop mi può catturare le cose sul desktop dopo lo vedremo bene ma io posso anche se sotto al desktop o che ne so come qua apro la poster vedete agisce sul desktop apro questo poster prendo l'evidenziatore e evidenzio alcune cose posso quindi posso mettermi una pagina o un video o qualcosa sul desktop e con open board agire agire sul desktop e anche prendermi qualcosa vedete queste sono le cose che ha fatto sul desktop che ha fatto sul desktop open board torno alla funzione lavagna abbiamo visto la cartella documenti la cartella desktop la cartella delle preferenze che è questa qui adesso vediamo il web praticamente cliccando qua open board ha un suo browser un suo browser per capirsi ha un suo Firefox un suo Google Chrome che permette di navigare in internet e trovare quello che vi serve con una piccola palette per catturare immagini ritagliare le finestre e così via allora adesso ritorniamo alla nostra lavagna e vediamo un po' le palette qua in alto c'è l'evidenziatore eccolo qua no la penna scusate in questo momento è selezionato il giallo adesso seleziono il nero nero ecco questa è la gomma ovviamente conoscete le funzioni di gomma l'evidenziatore la freccia che è lo strumento di lavoro che permette di agire sugli oggetti che vengono inseriti all'interno della pagina con la penna con la freccia io faccio qualsiasi cosa ecco in questo caso vedete agisco sugli strumenti li sposto li posso sommare li posso posso fare varie cose lo vedremo anche dopo meglio il dito con la punta in questo caso eccolo qua è quello che toglie la possibilità di agire sugli strumenti li può solo spostare o avviare la manina sposta tutta la pagina completamente il più e il meno è per la visualizzazione questa è una specie di lente di evidenziatore per quando si vuole mettere in luce qualcosa rispetto a qualcos'altro la linea che serve appunto a tracciare delle linee eccole qua e dritte lo strumento scrittura che ha come word o writer destra sinistra più grande più piccolo il colore e i font cliccando qua stabilite fonte e tipologia e poi il cattura immagini il cattura immagini è uno strumento eccezionale perché mi permette di catturare immagini da qualsiasi parte adesso io l'ho cliccato e catturerò scrittura che prima era scrittura mi può diventare un'immagine lo posso aggiungere alla pagina corrente come strumento di movimento lo posso adesso catturo questa linea rossa mettere in una nuova pagina adesso l'ho fatto vedete è finita in una nuova pagina annullo e torno indietro oppure la può mettere nella biblioteca immagini che è il deposito delle immagini che viene usato da open border eccolo qui immagini in fondo ci sarà la righetta che potrò usare in futuro per qualcosa altro siccome non mi servirà penso proprio per nulla la cestina è finita la storia la cosa molto interessante di questa funzione è che io posso catturare qualsiasi immagine da qualsiasi cosa ad esempio io mostro il desktop e mi voglio catturare un'immagine ecco per esempio riapro la pagina del poster eccola qui voglio catturare questa immaginetta che c'è sul poster allora non faccio altro che cliccare cattura immagini e selezionando come si seleziona qualsiasi cosa posso importarmela nell'immagine eccola qui è diventata un oggetto che arricchisce le mie attività per selezionare gli oggetti basta andarci su con la freccia ritagliare un'area e posso assemblarli come in questo caso bloccarli come in quest'altro non sono più movibili sono quasi un'immagine duplicarli vedete uno tutti assieme e adesso faccio vedere un'altra funzione le disassemblo io voglio per esempio che questa riga rossa qui sia vedete no eccola qui perché si vede poco per esempio cioè il sopra e il sotto voglio far mostrare che questa scritta per esempio è al davanti vedete io posso con queste due funzioni metterlo al davanti o al di dietro adesso ne butto via una perché diventa più chiaro io voglio che la parola scrittura non stia dietro ma stia proprio sopra scrivo non so mappa voglio che la mappa mi stia davanti alla cartina la vediamo se riesco a mostrarvi eccola la la cartina adesso è libera la mappa ci va dietro e non va mica bene io voglio che vada davanti come si fa intanto pulisco il monito per semplicemente con cance sparisce tutto e faccio vedere questa esercitazione mappa ha delle sue funzioni vedete cancello duplico e blocco e la cartina pure a me interessa adesso giocare la posizione vedete allora io dico tu cartina stai di sotto tu mappa stai di sopra adesso quando mappa la metto sopra ci resta e diventa un oggetto interessante se voglio bloccarlo seleziono i due oggetti e gli dico assembla adesso i due oggetti sono diventati un unico oggetto se voglio proprio bloccarlo definitivamente uscire dal fatto che siano oggetti li trasformo con questa funzione cattura parte dello schermo li trasformo in una immagine e a questo punto questa immagine non ha più l'assemblaggio o il disassemblaggio come vedete si può disassemblare è già un'immagine questo può essere molto utile quando noi non vogliamo modifiche che vengono fatte dai bambini perché magari non sanno usare lo strumento perché fanno dei pasticci ecco quindi la posizione si gestisce da questi strumenti qua sopra e sotto vedete se sono più le immagini da regolare in ordine basta fare una opportuna azione su questi strumenti bene argomento successivo è una pagina vuota e allora da documenti me la butterò via vedete la pagina vuota la butterò via cestino sei sicuro di voler rimuare una pagina sì perfetto allora adesso apriamo ecco che ha bloccato ogni tanto succede questo su windows ecco perché io salvo molte volte il programma ecco riprendiamo da dove siamo rimasti con la diapositiva sull'assemblaggio dei contenuti e non vi deve spaventare se la macchina e se il programma ogni tanto cresce perché comunque continua a salvare il vostro file non verrà perso basta riavviarlo e funziona questo difetto l'ho riscontrato sia su windows 8 che su windows 10 è fastidioso se si fa il podcast ma altrimenti basta riavviarlo in 10 secondi e riparte specialmente quando si hanno tante diapositive e tantissimi contenuti inseriti come qua pur avendo una macchina moderna e performante allora adesso vediamo un pochino cosa posso inserire in open board posso inserire la scrittura a mano libera eccola qui la scrittura a mano libera con le matite la funzione matita è questa scritta di richiesto digitale un testo e controllarlo nella funzione importa testo scrivi testo posso introdurre una immagine eccola qui open board come ho fatto vedere prima si può catturare da qualsiasi risorsa esterna oppure si può prendere delle immagini dalla cartella immagini dove io posso salvare queste immagini semplicemente trascinandole dentro questa è un'immaginità di open board catturata da se stesso vedete qui c'è scritto open board ho catturato open board mi serviva ma qualsiasi cosa è sul monitor con questa funzione io la catturo se voglio catturare che ne so preview seleziono preview e lo importo nella pagina ecco che preview è diventato un pezzo della mia pagina posso inserire un video eccolo qua vedete posso fermarlo portarlo avanti posso fare quello che voglio o addirittura posso catturarmi un pezzo di immagine del video e mettermelo dentro la pagina state ben attenti che su windows i formati più digeriti dal sistema dal programma sono i vmw e gli mp4 su linux e gli mp4 e gli avi posso introdurre dei file audio ecco il caso dei file audio spero che si senta non c'è possibilità di regolare il volume c'è solo la possibilità di fermarlo e oppure anche registrare la mia voce questo è un mp3 oppure anche questo è un mp3 e ho registrato una volta tre porcellini questi tre porcellini decisero di farsi tre casetti con audacity sempre un programma open source ho registrato la storia di tre porcellini voi pensate bene che utilità una cosa del genere se io faccio 5 o 6 file audio che compongono una storia e le associo alle immagini le associo a se stesse ho un'enorme possibilità di gestione della didattica oppure proiettarmi sul web dalla funzione che c'è qui nella biblioteca materiali applicazioni posso proiettarmi sul web col web browser e questo qui è proprio un browser dentro la pagina se io scrivo Rai lui va a cercarmi da Rai bene vado avanti perché è molto lunga questa presentazione ma il programma merita ed è forte veramente forte allora questa è come importo immagini da qualsiasi fonte abbiamo visto questa è la funzione apre questa finestra di cattura per la pagina per una nuova o per la biblioteca ma posso importare la cosa eccezionale come faccio vedere in questa pagina è che io grazie alla pagina di open board posso importare materiali creati con altri programmi è questo il caso dell'immagine di prima cioè questa che voi avete visto all'inizio io l'ho creata con LibreOffice e non ho fatto altro che ritagliarla e portarmela dentro oppure da Ara World un altro programma fantastico open source che abbiamo finanziato nella sua modifiche per Sodi Linux ma anche per il mondo Windows con il gruppo del centro nazionale delle ricerche ITD e grazie a un crowdfunding che è arrivato da tutta Italia siamo riusciti a finanziare questo fantastico programma che era già presente ma con delle modifiche di voce e quant'altro bene qui acqua di mare è con sale persone e animali bevono acqua dolce bene è una frase io non ho fatto altro che scriverla in Ara World e catturarla eccola qui oppure pezzi di immagine e così via questa è una funzione eccezionale perché mi permette di arricchire le pagine di contenuti e farli diventare molto 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 comprensibili alla portata di tantissimi ragazzi i bambini adesso vediamo come assembliamo gli oggetti e come li possiamo anche copiare allora l'assemblaggio l'abbiamo un visto un po' per esempio questa freccia vedete è a pezzi eccola qua questo qui è un pezzo gli altri pezzi sono separati se io la seleziono mi viene intera e me la porto via però voglio far vedere anche un'altra funzione che è il CTRL-C e il CTRL-V anche su pagine diverse CTRL-C vado su un'altra pagina CTRL-V ecco che è arrivata la freccia CTRL-X sparita la freccia queste funzioni ricordatevole perché sono di grande grande utilità adesso vediamo di ragionare su quello che permette OpenBoard e sulle questioni della biblioteca la biblioteca sono le risorse di deposito della macchina però io sono dell'idea che non merita di riempire la biblioteca immagini audio e video perché si possono inserire le immagini man mano che si trovano per strada o su internet o generate e la biblioteca si appesantisce quindi fatto un lavoro io sono dell'idea di salvarlo e metterlo da parte e sgravare la biblioteca immagini o video o filmati come in questo caso da quello che c'è perché se no il programma diventa piuttosto corposo quello portabile quello invece installato si appoggia alle cartelle come in questo caso genera una cartella OpenBoard sia nella cartella immagini che nella cartella audio che nella cartella video del sistema e io quando vado ad aggiungere qualcosa qui dentro poi dopo vi faccio vedere mostra desktop me la ritrovo dentro la cartella del pc eccola qua queste sono le cartelle del pc per esempio nella cartella video c'è la cartella OpenBoard e mi ritrovo tutti i video che avevo messo dentro OpenBoard trascinandoli per mettere un video qui dentro è banalissimo se scarico un video da internet per esempio il clima e elementi e fattori ecco lo rinomino perché magari ah no l'ho buttato via le zone climatiche rinomina ecco la chiamo 1 zone climatiche perché forse c'è già apro la cartella della biblioteca che ha a che fare con le immagini la trascino dentro eccola lì adesso c'è dentro se io vado a vedere nel risorse del pc video OpenBoard troverò 1 zone climatiche vedete a quel punto me la posso usare su tutti i documenti che faccio altrimenti quando sono vecchi e li sposto e li butti via i documenti sono già fatti bene adesso torniamo alla lavagna per cancellare una risorsa è semplicissimo basta aprirla selezionarla come faccio adesso cancella e la butti via se vuoi fare una cartella per fare ordine per le tue risorse crea una cartella e le trascini dentro come qua la cartella la chiamo che ne so climi accetta eccola lì questa è la cartella climi mi piccolisco un po' ecco me la sposto dentro vedete e faccio ordine in tutti questi video è molto importante fare ordine perché se no dopo un po' succede come nel desktop non si trovano più le cose che si vogliono trovare successivo bene nella cartella nella biblioteca ci sono anche gli strumenti di applicazione e delle attività interattive le attività interattive sono fisse non le posso aumentare o diminuire come invece faccio per le immagini video e suoni e anche le applicazioni in questo caso un righello ho trascinato sulla scrivania un righello vedete l'applicazione c'è il righello la squadra la stecca il compasso varie cose non sono tantissime se ho bisogno di immagini o altre cose me le posso costruire con writer al di sotto e poi importarle però sono molto interessanti la calcolatrice insomma un minimo di applicazioni ci sono questa è la cartella funzione delle funzioni interazione vedete che si muove perché è partito bene vi dico subito però che funzionano male sono dei file di flash nelle animazioni perché di flash ce ne sono tanti tipi io non consiglio di usarli perché mi ha mandato in crash moltissime volte la pagina infatti non la tocco neanche perché ho paura che si blocchi preferisco preparare le cose statiche e fare fare al bambino ciò che serve come in questo caso io copio l'immagine me la metto di qua vedete me la metto di qua e magari copio adesso lui è ripartito mi copio questi pezzettini e li metto al loro posto per fare in modo che il bambino impari e le muove con le mani l'animazione so che è interessante però ho visto che il programma non è ancora maturo sull'utilizzo delle animazioni meglio lavorare solo con gli spostamenti manuali questa è una pagina che rinforza il discorso che facevo prima fare delle cose al di sotto cioè mostra documento come sto facendo adesso e poi ritagliare quello che serve vedete adesso apro a reward scrivo una cosa me la posso ritagliare a reward è un programma fantastico che consiglio non è difficile da usare anche molto intuitivo ecco se voglio portarmi dentro la mia pagina la casa di mamma è al mare io mi posso portare dietro questa stringa comunicativa semplicemente con lo strumento ritaglia immagine vedete me lo prendo quindi questo programma non è open board ma arricchisce le funzioni di open board e quindi la posso portare dove voglio e far diventare anche interattivo il programma poi ci si vedono alcuni esempi per esempio il ghiaccio è acqua a zero temperatura è sempre acqua lago ghiaccio nuvola io ho ritagliato le cose e posso poi usarle anche separate vedete le ho spaccate bambino le deve ricostruire per esempio per vedere se ha capito oppure posso far sparire a un certo punto queste immagini e dici farlo te adesso mettemele a posto vediamo se hai capito dai prova a costruirmi la frasetta io ti faccio una riga e tu fammela capire poi magari torniamo indietro e gli faccio vedere da dove eravamo partiti bene questo è un altro esempio esempio di cattura della schermata vedete abbiamo catturato la schermata varie schermate 50 gradi bambino che non capiva cosa significava i gradi e dobbiamo introdurlo già nella terza dove si parla addirittura dell'algebra a 50 gradi c'è tanto caldo a 40 un po' di più e così via per comunicazione aumentativa il bambino ha capito e poi quando volessi fare una micro interrogazione posso disaggregare queste immagini e lui mi porta le immagini al posto giusto e quindi fare una sorta di interrogazione per immagini qua sempre con le immagini per capire far capire a un ragazzino il significato di quelle cose la sufficienza l'insufficienza vi assicuro che non è un concetto semplice qua addirittura una mescolanza di immagini per spiegare a un ragazzino singalese e anche un ragazzino autistico della stessa classe le forze endogene esogene della terra e che la terra è sempre in movimento la terra continua a cambiare le forze che cambiano la terra sono due endogene esogene provate a spiegare un concetto così a parole a uno straniero e se ci riuscite siete bravi e poi il gioco era mettere le forze che sono il ghiaccio il sole il vento e tutte quante queste altre al loro posto quella era la tavola identica a questa ma diventata interrogazione ovviamente si può stampare bene adesso spiego come si importano i file di San Corè per chi ha usato San Corè fino all'oggi appena parte il programma openboard si accorge che ci sono dei file di San Corè se sono stati generati a questo punto lui ti dice li vuoi importare bene io consiglio di non farlo per due ragioni primo di non usare la sua maschera perché questa versione vedete che sta salvando appena salvato quindi anche andasse in crash a questo punto lui salva in automatico allora perché da questa versione i file ubx di open San Corè che raccoglievano tutto il lavoro di una lavagna di un anno o di due non li porta più importa solo ubz che sono i file generati ubz in realtà sono questi video tutorial 5 video tutorial 4 video tutorial 3 questi sono ubz quelli li importano ma a questo punto merita farlo a mano e farseli fare da sé quindi io direi che questa funzione di non utilizzarla questo è il mio personale consiglio ho visto che questo malfunzionamento a parte che probabilmente hanno fatto bene perché le librerie di riferimento di San Corè e Open Board sono diverse Open Board scrive su tutte le lavagne San Corè no bene invece in questo sistema funziona cioè io voglio tirarmi dentro un file di Open Board come in questo caso l'Italia salvata sul monitor questo lo posso fare che sia un file di San Corè dimostrato perché dalle proprietà mi dice l'ha fatto proprio San Corè allora io ho esportato da San Corè questo file sulla lavagna sul desktop e me lo posso importare come si fa? nella funzione Importa che è qui Documenti Importa vedete cliccando Importa si apre la finestra di navigazione e io vado a cercarmi il file eccolo qua facce che mi sembra che sia questo e poi non faccio dire apri i file supportati vedete UBZ BMP quant'altro eccolo qua Open Board UBZ file supportati UBZ non c'è più l'UBX che era il file di San Corè riassuntivo annulla torno alla spiegazione mostra la lavagna ecco una volta che dico apri eccolo lì che si apre bello come il sole il mio file di Open San Corè all'interno di Open Board e anche lo archivia lo mette al suo posto nei documenti quindi ma si porta dietro le immagini i file audio tutto quello che aveva era stato costruito questo era un file che addirittura aveva i bambini che parlavano e se l'è portato dentro bene quindi io sono dell'idea che conviene portarsi dentro uno a uno i file che si decide di riutilizzare su Open Board non ha più questa funzione di raccolta di tutti i documenti era una bella funzione ma si vede che non era possibile portarsela sul nuovo programma adesso vediamo come importare i file PDF come sfondo di pagina cosa vuol dire questo? se noi vogliamo che un libro di testo diventi lo sfondo della lavagna sul quale noi andiamo a fare delle annotazioni commenti e quant'altro possiamo farlo perché il programma lo permette cioè permette di far diventare sfondo di pagina il nostro libro di classe se ce l'abbiamo in PDF o se ce l'abbiamo sotto forma di immagine qualcuno si fa le foto del libro e poi lo adopera come sfondo perché poi può intervenire allora qua vedete c'è un libro digitale la funzione è questa documenti importa no aggiungi da file clicchi qua e ti vai a cercare il documento che ti interessa o l'immagine che ti interessa eccolo qua adesso io mostro cosa succede una volta importato io troverò un documento che ha come sfondo di pagina tutte queste pagine qua che sono il capitolo del libro non ha nome ha il nome della data che l'ho fatto doppio clic e scrivo capitolo 1 di storia capitolo 2 capitolo 3 e poi dopo eccola qua cosa succede la pagina diventa sfondo di pagina sulla quale io posso lavorare catturare le immagini annotare scrivere col gesso con la penna e tutti i ragazzi possono vedere dalla lavagna quello che io faccio che farei se avessi insieme a loro possono anche loro fare la sottolineatura del libro e mostrare ai compagni se hanno stolineato perché open board ce la possono avere anche loro sul loro pc quindi posso importarmi quello che voglio e creare dei documenti adesso posso far vedere come si esportano i file cioè come si può condividere sul web i file di San Corè ad esempio questa presentazione che io ho fatto e far diventare questo lavoro anche un pdf stampabile io potrei salvare questo materiale ovviamente non si salvano le barre di lavoro quella superiore e quella laterale si salva solo il contenuto della pagina dalla funzione esporta vedete c'è esporta come open board esporta come pdf io decido se la esporto come open board eccola qua esce fuori un documento che ha questo simbolino qui io lo metto in una chiavetta glielo do un altro e lui con open board lo apre oppure lo posso mettere sul web e i ragazzi lo possono scaricare e se hanno open board gli si apre io l'ho fatto tante volte con i miei ragazzi spedendo degli open board che loro hanno utilizzato a casa per poter lavorare invece questo è il pdf stampabile o elaborabile sul desktop adesso vediamo se riesco a trovarlo confermo l'uscita si vediamo se riesco a trovare il pdf eccolo qua il video tutorial io doppio clic mi si apre il pdf eccolo qua come vedete è sformata la pagina eccola là questo è il pdf stampabile di questo si di questo lavoro insomma io potrei fare un documento stampato naturalmente non è interattivo perché la carta non è interattiva ma se facessi un documento testo e immagini invece questo è il documento non lo clicco perché c'è già aperto quell'altro che potrei anche spedire spedire in posta ovviamente chi lo spedisce in posta deve trovare lo spedisce a persone che hanno open board sul pc e quando lo scaricano gli si apre la stessa cosa che voi vedete bene questa è un'altra funzione abbastanza interessante però io sono dovuto passare a un altro strumento per fare un video così lungo come quello che stiamo facendo adesso perché ho visto che dopo un quarto d'ora va in crash windows 8 e anche windows 10 con linux non l'ho provato perché queste sono guide fatte per il mondo windows allora questa è la funzione podcast praticamente registra quello che c'è sulla lavagna io parlo e registra sulla lavagna quindi un insegnante che facesse un'espressione e la vuole commentare cliccando quel bottone parla il computer registra la voce e anche le azioni che vede sul monitor tutto ciò diventa un video eccolo qua open board cast 1 quello che io invece sto facendo giusto per onestà intellettuale lo sto facendo con cam studio programma open source dentro easy dda 1 e anche il futuro easy dda 2 che mi sta registrando e sta catturando tutto questo monitor e sto interrompendo il video in più pezzi perché mi sono accorto che non ce la fa a gestirlo questa è la parte A poi farò la parte B li assemblerò per piccole video va bene il podcast per video lunghi no adesso per essere onesti racconto quali sono i malfunzionamenti come uscirne fuori allora primo problema ogni tanto il mouse seleziona continuamente tutto voi muovete il mouse e vedete che seleziona completamente tutto bene allora cliccate sulla manina che è questa e poi spostate qualcosa vedrete che il mouse si riattiva e il programma non va in crash 2 qualche volta lo strumento cattura non salva le immagini in biblioteca immagini specialmente con Windows 10 su su del Linux va tutto io sto usando Windows 8 perché questo problema su Windows 8 non è riscontrato come fare se uno ha Windows 10 allora semplice catturate le immagini dal desktop con qualsiasi strumento ottimissimo il Faston Capture che è dentro Windows EasyDida che io distribuisco sul mio sito www.francesco-fusillo.it o su KitPCDSA che si trova anche sul sito dell'Indire quindi si cattura un'immagine si salva e si sposta nella cartella Open Board a quel punto quell'immagine è disponibile 3 la funzione Embed che permette di riprodurre i video di YouTube in applicazioni che è questa applicazioni la funzione Embed è una bella funzione perché se funzionasse io la importo nella pagina copio il codice del video di YouTube e potrei avere YouTube dentro la pagina però io ho visto che con Windows non funziona con Linux sì con Mac non so allora come fare semplice scaricate i video di YouTube in formato mp4 ormai tutti i browser hanno gli strumenti di download ne dico uno Download Helper o Easy YouTube Video Downloader e poi che ho scaricato i video come ho fatto io qua eccoli qua le zone climatiche i moti della terra e così non si fa altro che trascinarli dentro la cartella video e i video invece che essere online sono residenti così non si subiscono le bizze della rete lo so che questo potrebbe in qualche caso non essere legale ma se uno non distribuisce gli strumenti li usa solo per sé oppure un modo perché la cosa sia legale è sotto il video mandare il collegamento al video nativo in maniera che quella risorsa lì lascia il diritto intellettuale a chi l'ha costruita i video spesso se si ricarica un file perdono le dimensioni assegnate che vuol dire che io trascino dentro la pagina un video ho dentro la cartella video che è qui filmati che ne so la deriva dei continenti eccola qui final supportato lo faccio un paio di volte oppure giro apro la pagina e quella e quella video lì cambia dimensioni cioè apro e chiudo il file e cambia dimensioni allora il trucco quale può essere scaricare il video alle dimensioni che si intende scaricare non scaricare un 1070x700 perché è enorme lo scarico non so 320x240 pixel di lunghezza per larghezza in maniera che quando lo porto nella pagina sia già dalle dimensioni che mi servono questo è un escamotage ecco allora altro problema qualche volta il programma va in crash su sudo linux non mi ha mai dato in crash invece su windows varie volte che fare come ho fatto io è salvarlo con vari nomi come si fa dal resto con powerpoint o impresso o qualsiasi altra cosa se si vuole fare un lavoro di un certo rilievo c'è da dire che il programma ogni tanto salva se voi guardate qua sotto vedete salvato automaticamente altro problema che dicevo i file di flash non vengono spesso supportati e bloccano il programma soluzione non usate i file di flash ecco nonostante tutto open board è un buon programma è inclusivo facile da usare compatibile con tutte le IMM compatibile con tutti i sistemi operativi più diffusi e con pc anche abbastanza datati casomai usate meno video e meno audio ma con le immagini il testo e l'inchiostro digitale è veramente potente io l'ho addirittura reso portabile e funziona da una chiavetta chi scaricherà iSIDA2 fra qualche giorno massimo 15 giorni lo troverà su questo sito e anche forse su qualche altro inoltre è gratuito scusate la lunghezza appena stato salvato di questo video ma non poteva essere forse più striminzito di così perché nonostante tutto non ho detto tutto ho detto abbastanza comunque di open board è un programma da scoprire è molto importante che veramente dà una marcia in più alla didattica apre la didattica ad una impostazione costruttiva della didattica apre la didattica più linguaggi quindi include i diversamente abili i diversamente cognitivi perché pescano la conoscenza là dove possono e dove loro si agganciano quindi vi ringrazio per avermi ascoltato fino in questo momento Francesco Fusillo per le guide del software libero open board